Nomi noti e meno noti, discipline sportive tradizionalmente legate al territorio, ma anche talenti capaci di affermarsi in specialità in cui finora la Valtellina non si era mai distinta. Dallo sci alla rugby all'atletica leggera, comunicati i quattro nomi scelti dal direttivo del Panathlon Club Sondrio per il conferimento dei premi del 2017 sulla base delle segnalazioni fornite dai giornalisti sportivi locali, tra cui Andrea Scala di Teleunica. Panathlon ha assegnato i premi Panathlon 2017 nella categoria atleta studente a Patrick Olcelli perché è stato l'anno scorso campione regionale italiano di getto del peso. Come invece atleta abbiamo scelto Elena Curtoni per le vittorie per i podi che l'anno scorso ha avuto in Coppa del Mondo e anche un po' in relazione all'infortunio che ha avuto che le precluderà di andare alle Olimpiadi della Corea del Sud. Per quello che riguarda il tecnico sportivo il premio è andato a Gianni Franci che si dedica all'atletica leggera e che ha portato ben tre valtellinesi nelle squadre nazionali e infine per quello che riguarda il merito dello sport la scelta è ricaduta su Franco Sertori per tutte le attività che ha svolto a favore di diversi sport da rugby al calcio al golf. La lunga storia dei premi Panathlon risale al 1954. Il primo nome dell'albodoro fu l'alpinista Achille Compagnoni. Nel corso degli anni poi il premio si è allargato fino ad articolarsi stabilmente a partire dalla fine degli anni Sessanta nelle attuali quattro categorie. La cerimonia di consegna in attesa di definire la disponibilità degli insigniti avrà luogo intorno alla fine di febbraio.